Musica Nulla è più duro di una pietra e nulla è più molle dell'acqua, eppure la molle acqua scava la dura pietra. Cari amici e carissime amiche, come sempre un saluto da Roberto Artigiani, che come vedete oggi è in compagnia di un altro carissimo personaggio che io conosco da 25 anni, si chiama Antonello Ferri, che oggi ci aiuterà a parlare di questo nuovo prodotto, di questo prodotto che io voglio offrire a voi. E lo farà da esperto, perché lui da anni, ma da molti anni, si occupa di ecologia, di ambiente, vero Antonello? Sì, praticamente da tutta la vita ho sempre avuto questo pallino, chiamiamolo così, questa particolare sensibilità, no? Il classico foglio in terra, ero un bambino, lo raccoglievo, lo gettavo nel cestino. Allora parliamo di ecologia, quindi di... So che tu sei anche, diciamo, a capo di una rivista, vero? Sì, praticamente da sempre mi occupo di informazione positiva, da sempre, no? A suo tempo fornivo i contenuti a terzi, poi il mio sogno era quello di creare un portale, un web magazine, come si dice oggigiorno, online, che si occupasse solo ed esclusivamente di buone notizie, ed è nato quindi goodnews.ws. E quindi esiste. Esiste, sì. E mentre per quanto riguarda l'ecologia, mi dicevi che tu sei in contatto con... Per quanto riguarda l'ecologia, appunto questa testata è in contatto con i maggiori istituti di ricerca e università a livello internazionale. Abbiamo notizie di prima mano, freschissime, su quello che accade nel mondo della scienza, no? E in particolare, nel nostro caso, siamo sensibili all'ambiente, no? All'ambiente. E quindi, guarda caso, si parlerà di acque, di acque pulite, di acque perfette. Vedete questa introduzione sia per parlare con lui, che dopo tanti anni ho ritrovato, ma più che altro per introdurvi in questo mondo fatto di acqua pura. Guardate oggi, acqua pura è un termine così, che si usa anche con abbondanza, molto spesso poi però non è esatto. Voi pensate di bere dell'acqua dal vostro rubinetto, dice, ah io ho il rubinetto, c'è acqua buona, acqua potabile, magari forse sarà anche potabile, però sicuramente non è perfetta. E se invece andate a 5.000 metri da una bella sorgente, prendete una bella bottiglia di acqua di sorgente, la cosa è diversa. Noi oggi, con questa azienda, cosa vogliamo fare? Vogliamo portare nelle vostre case l'acqua di sorgente pura, perfettamente pura. E come si riesce? Oserei dire qualcosa di più. Qualcosa di più. Qualcosa di più, perché purtroppo ci sono le piogge acide, come molte persone sanno, che nascono dai fertilizzanti in agricoltura, insomma un sacco di robaccia finisce in cielo e poi piove, anche a 5.000 metri non possiamo dare la garanzia totale come con queste macchine. Esatto, l'acqua è sicura magari, ma molto di più. Figuratevi un po', figuratevi un po'. Quindi la totale sicurezza di un'acqua perfetta, ma veramente acqua, acqua. Va bene? Usiamo questo termine, acqua, acqua. Esatto, posso raccontarti un breve aneddoto riguardo l'acqua. Innanzitutto vorrei specificare che sono stato personalmente contattato da questa importantissima azienda nazionale che si occupa di depurazione e purificazione delle acque perché dice secondo noi tu hai la giusta sensibilità e ne puoi parlare, sei un protettore dell'ambiente, quindi eccomi qua. Il mio ricordo con l'acqua risale a moltissimi anni fa, io sono del 61, e lo stesso anno fu proiettato nello spazio il primo uomo, Yuri Gagarin, direttamente dalla Russia. Quando Yuri Gagarin si trovò nello spazio ad osservare la Terra dallo spazio, disse delle cose meravigliose. La prima fu la Terra è blu, la Terra è bellissima, disse questo, ma la Terra non è blu per una ragione banale, la Terra è blu perché è coperta d'acqua, la Terra è coperta d'acqua. Un altro aneddoto, quando gli astronomi, gli scienziati puntano i loro potentissimi telescopi nello spazio siderale alla ricerca di vita extraterrestre, che cosa cercano? Cercano pianeti similari alla Terra, cercano l'acqua, l'acqua è vita, è un sinonimo perfetto, non c'è vita senza acqua. Quando l'acqua è perfetta, anche la vita è perfetta, usiamo questo termine. Oggi però ai nostri amici, dopo tutto questo, bisogna dargli qualcosa di concreto, e io sono qua per questo, perché abbiamo costretto questa azienda a fare una campagna promozionale per tutti voi. Quindi voi avrete la possibilità di chiamare, di chiedere informazioni, di ricevere un tecnico a casa per avere finalmente uno di questi impianti di depurazione acqua che sono veramente all'avanguardia. Sono all'avanguardia per diversi motivi, prima di tutto perché abbiamo a che fare con un'azienda italiana, con dei tecnici specializzati all'interno, ingegneri, professori in chimica, cioè persone che quando hanno tirato fuori il prodotto possono certificarlo e garantirlo. Attenzione, ci sono altri prodotti magari similiari un po' in tutto il mondo, che però le garanzie come queste sicuramente non ve le possano dare, perché magari è un prodotto che non è certificato, è un prodotto che magari funziona un po', poi non funziona più, non trovate il tecnico che ve lo ripara, qui invece avrete un'assistenza totale e continua. Tutto questo come inizio, poi in realtà andremo a vedere i vari prodotti che oggi sono stati portati, ma prima ancora Antonello, se te me lo consenti, guardiamo i nostri amici, tu guardi me, ma insomma è a casa che bisogna rivolgere il nostro sguardo, dicevo ecco salutiamoli, dicevo attenzione, perché lui ha fatto il santo maso della situazione, è andato a trovare il titolare di questa società e gli ha fatto una serie di domande, quindi io vorrei insieme a voi ascoltare che cosa ha da dire il titolare che naturalmente è la persona più adatta per spiegarci certe cose, andiamo a vedere. Buongiorno signora, acqua a scegliere, dopo la sua ordinazione è passato solo qualche giorno, giusto il tempo di organizzare la consegna, ora eccoci qua, come da lei ordinato. La signora sembra ad dubitare, sembra pensare, ma avrò fatto realmente un buon affare, risparmierò veramente con l'acquisto di questo depuratore rispetto all'acquisto delle bottiglie di plastica, sembra pensare questo la signora. Certo, l'acquisto di un depuratore, anche se l'acquisto può essere diciamo così scomodo, è ammortizzabile abbondantemente tramite il non acquistare più le bottiglie, è chiaro? Che vi ripeto, non c'è solo il costo della singola bottiglia, dovete sommare a questo anche la benzina per andare al supermercato, il tempo che perdete, la fatica fisica. Il marito potrebbe avere qualcosa da obiettare, ma siamo sicuri che depura veramente l'acqua, perché nel nostro comune, pensa il marito, nel nostro comune dicono che controllano l'acqua tutti i giorni e dal rubinetto esce acqua pulita, quindi perché la devo ulteriormente depurare bellissimo oggetto? A cosa serve? Effettivamente se già mi esce cura dal rubinetto? Il marito potrebbe pensare questo, forse. Perché diciamo così, il comune aggiunge il cloro giustamente per disinfettare l'acqua, per esempio, che pur essendo buonissima dell'acquedotto attraversa spesso delle tubature purtroppo che, diciamo così, come sappiamo in Italia, perdono ruggine magari, sono rugginose, hanno dei fori, eccetera. La macchina in questione elimina il cloro, elimina ruggine, elimina terra, moto e tutto quello che concerne le particelle che possono depositarsi nelle tubazioni, per cui rende l'acqua esattamente oligominerale, esattamente quella in bottiglia con la capacità di regolare e addirittura l'uscita, in questo caso la salività e la conducibilità dell'acqua. Per cui se c'è un bambino piccino vogliamo un'acqua più leggera, se c'è degli sportivi un'acqua più sostanziosa di sale minerale, abbiamo questa opportunità che, diciamo, non tutti i decoratori possono offrire. Vi faccio vedere come si può essere installata, o verticale... Salute! Che buonissima! Arrivederci, veramente e buona giornata, buone tante bevute, sane! Grazie mille! Ciao piccino! Beh, migliore spiegazione oggi non potevamo darla tramite la sua intervista e tramite le parole del proprietario. Allora oggi per voi però c'è questa sorpresa, c'è un'offerta di uno di questi depuratori e lo vediamo in questo momento, che è Antonello quello naturalmente per le famiglie, noi abbiamo detto, quindi questo come vedete stiamo posto sia in posizione orizzontale che verticale, che cosa fa esattamente questo? Questo depura l'acqua del vostro rubinetto, qualunque rubinetto, qualunque, sappiamo benissimo che ci sono certe città dove l'acqua addirittura è proprio cattiva anche come gusto, perché sta di cloro, perché va bene, calcare, non parliamo di tutto il resto. Bene, con questa macchina noi riusciamo a dare litri, 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 migliaia e migliaia di litri di acqua pura. Certo, in particolare, come ti accennavo poc'anzi, queste attrezzature, queste macchine sono in plusulta della tecnologia italiana, no? In plusulta. E lavorano in osmosi, mi dicevi? Si chiama osmosi inversa, questo particolare sistema di filtratura, un aneddoto divertente, no? Prima parlavamo di spazio, di astronauti, l'International Space Station, la stazione spaziale internazionale che gravita a 400 km sopra di noi, non hanno acqua a bordo, le arriva dalla Terra, però hanno necessità di risparmiare, quindi loro che cosa bevono? Riciclano anche l'urina. E come lo fanno? Lo fanno con un sistema di filtratura, chiaramente non è questo depuratore, è qualcosa di adatto allo spazio, però il sistema di filtratura è osmosi inversa, è lo stesso. Quindi lo stesso, quindi pensate se si riesce a rendere potabile quello che ha detto Antonelli, figuratevi... Non è un'offesa, credo, no? No, no, figuratevi la vostra acqua. Allora, l'offerta consiste in questo, che se voi chiamate, riceverete a casa la visita di un nostro tecnico, vi spiegherà il prodotto, vi dirà perché scegliere questo anziché questo, ora poi parleremo anche di questo, e pensate voi, con poco più di 2 euro al giorno, perché potrete pagare a rate questo prodotto, che è un prodotto professionale, non è una cosina a 100 euro, allora qual è quella famiglia che non spende perlomeno 2 euro al giorno di acqua potabile? Perché tanto tutti andiamo con le sacche e la noia di portare le bottiglie. Una cosa fondamentale da comprendere è che noi inquiniamo la nostra persona non solo con l'acqua che beviamo, ma anche con l'acqua che usiamo per cucinare, con l'acqua che usiamo per lavare la frutta, perché l'impianto di depurazione pubblico, l'acquedotto appunto con il sistema di cloratura ammazza i batteri, non ci sono dubbi, però non ci sono solo i batteri, ci sono anche altri elementi inquinanti che da questa parecchiatura non passano, perché il filtro osmosi in persa ha una membrana con una porosità talmente piccola che non passa niente, quindi abbiamo capito che non serve solo per l'acqua da bere, ma anche per fare la minestra, per fare la pasta, per lavare le verdure. Allora, l'offerta non solo è bella, importante, avete sentito con poco più di 2 euro al giorno, ma oltretutto c'è un omaggio, anzi due omaggi. Il primo, state vedendo in questo momento un coupon, un biglietto, un bonus di circa fino a 500 euro su una vacanza che voi andrete a fare. Magari te che ci stai guardando sei un pochino stanco, hai bisogno di farti una vacanza, molto spesso la spesa è un grosso scoglio, non diciamo di regalarti, però un grosso aiuto sì, fino a 500 euro di sconto su qualsiasi vacanza rivolgendoti al gruppo di nostri amici artisti dei viaggi. Che noi ve lo diremo, poi vi faremo vedere. Non solo, ma ci sono poi tutta la serie di legali anche per i più piccoli, perché abbiamo questi libri. Esatto, ti ringrazio che hai parlato di bambini, perché è una cosa assolutamente importante. Ci sono molte persone che trascurano la propria salute, ma verso i figli ci vogliono una grande responsabilità. Tornando un attimo sul depuratore, posso parlarti subito dopo del regalo? Sì, tieni presente che abbiamo due minuti, non due ore. Parlando del depuratore, questo depuratore ha la particolarità di poter regolare il grado di salinità. Un bambino piccolo ha necessità di avere un'acqua molto leggera e noi possiamo tarare il depuratore per l'acqua del bambino. Se in famiglia invece non avete bambini, siete sportivi, avete necessità di acqua maggiormente ricca di sali minerali, ecco che la possiamo regolare in questo modo qui. Tornando al regalo, tu hai un bambino, ti preoccupi della sua salute e noi ci preoccupiamo anche della sua cultura. In accordo con un nostro amico, l'editore Il Rubino, abbiamo deciso di regalare un bel po' di libri, diciamo un valore di circa 150 euro di libri per bambini di varietà. Se sei un bambino dalle scuole materne, abbiamo il set dei libri per lui. Li stiamo vedendo, li stiamo vedendo. Antonello ti interrompo perché il tempo passa, altrimenti non ce la facciamo, volevo parlare anche di questo prodotto che è praticamente abbastanza simile da tenere sopra e non sotto e questo vi dà la possibilità addirittura di fare l'acqua gassata e l'acqua refrigerata. Più di così è anche qui, potete pagarlo a rata, non ci sono problemi. Poi vorrei far vedere l'ultimo oggetto che è stato portato oggi che è specifico per le aziende, quindi per ristoranti, bar, alberghi, mi raccomando telefonate, io sono qua oggi per obbligarvi a fare una telefonata perché è una telefonata intelligente, una telefonata economica, una telefonata salutare, quindi fatela senza nessun impegno, telefonando voi non chiedete altro che l'intervento di un nostro tecnico, una consulenza importante, delle informazioni superiori perché noi velocemente non è che possiamo dire tutto, noi se sta qua potrebbe parlare un'ora dell'acqua, però non abbiamo un'ora a disposizione, allora chiamate senza impegno, nome, cognome, numero telefonico, ovunque voi siate, in tutta Italia, in tutta Europa, vorrei dire, telefonate e dite, ma lo sa che mi interessa anche, anche a me interessa tutto quello che ha detto il signor Antonello, avere l'acqua come serve per mio figlio, per me, per lavare, per fare da mangiare, insomma per essere in salute perché oggi la salute è il bene più caro che abbiamo e dobbiamo mantenercelo. Caro Antonello, dobbiamo fare i saluti. Un'ultimissima cosa, questa azienda garantisce i suoi prodotti per due anni, due anni, qualsiasi problema interviene gratis, eccetera. Ma guardi, non avevo dubbi, non l'ho nemmeno detto. C'è una serietà assoluta. Un saluto a tutti voi e chi non chiama sappia che da oggi non sa che acqua beve. Salute, ciao. Acqua Shade, la tua nuova buona acqua.